E ora come ogni giovedì l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati a Diocesi Informa, appuntamento di informazione a cura della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Siamo all'inizio del Trido Pasquale e tutte le parrocchie sono coinvolte nei riti liturgici, nonché nelle processioni. Stasera nella Cattedrale di Molfetta alle ore 18 il Vescovo Domenico Cornacchia presiderà la Messa in Cera Domini con il rito della lavanda dei piedi. Mentre venerdì santo, 7 aprile, giornata di digiuno e di astinenza, la Chiesa ricorda la morte in croce del Signore Gesù e alle 18, sempre in Cattedrale, il Vescovo presiderà l'azione liturgica della Passione del Signore con la venerazione della croce. Ricordiamo che nel Venedì santo, in tutte le parrocchie del mondo, si raccolgono offerte pro Terra Santa. In serata alle 21.30 il Vescovo concluderà la via Crucis a Molfetta con la croce di Cutro. Sabato santo, 8 aprile, giorno di silenzio e meditazione, alle 22 in Cattedrale il Vescovo presiede la Messa di Pasqua e il giorno dopo, nella domenica, alle ore 10.30. Alle 12 poi presiderà a Ruvo, presso la parrocchia San Domenico, la Messa all'aperto. Mercoledì 12 aprile, alle ore 19, presso la concattedrale di Terlizzi, l'accolito Francesco De Leo, originario della parrocchia dei Santissimi Medici in Terlizzi, sarà ordinato diacono per la preghiera consacratoria e l'imposizione delle mani di Monsignor Domenico Cornacchia. Diamo adesso uno sguardo al numero di luce vita del 9 aprile, giorno di Pasqua. L'editoriale è scritto dal Vescovo, Monsignor Cornacchia, col titolo Pasqua e schiodare Cristo dalla croce. Dobbiamo prodicarci a schiodare Gesù presente e nascosto, come direbbe Madre Teresa di Calcutta, nei panni dei nostri fratelli, ancora inchiodati sulla croce della solitudine, della guerra, dell'isolamento, della povertà e dell'indifferenza. A pagina 2 riportiamo la copertina di luce vita dell'11 aprile 1993, con gli ultimi auguri pasquali di Don Tonino Bello, scritti pochi giorni prima della sua morte. E nella pagina successiva riportiamo anche l'ultimo saluto che aveva dato, a conclusione della messa crismale, giù in cattedrale, dalla sua sedia del dolore, come ultimo incontro con la comunità. Il titolo Non contristatevi. Abbiamo scelto in questo periodo di Quaresima e Pasqua di riproporre gli iscritti di Don Tonino Bello, facendo parlare lui con la sua carica profetica di grande attualità. Da pagina 4 a pagina 7 abbiamo raccontato 4 buone notizie, 4 esperienze di vita nuova, di rinascita, quasi di risurrezione sui nostri territori. A Ruvo presentiamo i 12 progetti di Ruvo Solidale Genera Bellezza, sostenuti dal Comune, in cui sono coinvolte numerose parrocchie e oratori, che in questo periodo stanno dando slancio e vitalità ai territori, sia quelli centrali sia quelli più periferici. A Molfetta invece si è concluso il progetto Up to You, che da maggio 2022 a marzo 2023 ha coinvolto i giovani molfettesi tra 16 e 35 anni in un processo di partecipazione e coprogettazione dal basso. Mentre a Giovinazzo raccontiamo dell'orto solidale presso la parrocchia Sant'Agostino, che recupera un terreno incolto e abbandonato, facendolo luogo di connessioni dell'intera comunità parrocchiale e opera visibile, viva, di speranza e di solidarietà. Infine a Terlizzi parliamo dell'impegno dell'Associazione La Garra coinvolta in azioni di recupero di cibo eccedente per mettere a disposizione delle realtà che lavorano nel contrasto alla povertà Caritas, Casa Betania e altre realtà. Dunque quattro belle esperienze che ci piaceva raccontare come buone notizie di questa Pasqua. In ultima pagina una meditazione sulle letture di Domenica di Pasqua e una riflessione dei redattori di Luce Vita Ragazzi che ci propongono provocazioni su alcune situazioni in cui purtroppo Pasqua non sarà, per esempio quella dei ragazzi diversamente abili e discriminati, quella di donne private della dignità, di migranti in cerca di libertà e non ultime di popolazioni ancora vittime della guerra, Ucraina ma non solo. In questo numero ci sono poi due poesie nell'ambito della rubrica riflessi dedicate alla Pasqua. Anche a Pasqua quindi Luce Vita offre tanti motivi per riflettere su se stessi ma non solo su se stessi ed è proprio con queste parole che vogliamo esprimere i nostri auguri a tutti quanti voi ascoltatori ma anche a tutto lo staff di Teledeon e a Padre Francesco Direttore formulando a tutti voi gli auguri di Buona Pasqua.